Advisor, il news magazine della consulenza finanziaria, nel mese di dicembre intraprende un viaggio alla scoperta del mondo della promozione finanziaria europea, riflettendo sul futuro della professione in Italia, con un'intervista esclusiva rilasciata da Giovanna Giulgola Trazza e Gio Capobianco, Presidente e Direttore Generale dell'Organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari. Portafogli vincenti per l'anno prossimo, Azimut, BlackRock, Invesco, Pictet e Schraders si sono confrontati sul futuro dei mercati durante i roadshow di Advisor e Open Financial Communication, sul numero di dicembre del magazine un resoconto dettagliato delle soluzioni di investimento suggerite dagli esperti del risparmio gestito. Nel dossier di dicembre occhi puntati sul mercato immobiliare, in Italia nonostante il forte stock di prodotto e invenduto, il settore immobiliare stenta a ripartire mantenendosi stazionario, ma le opportunità, a detta degli esperti, non mancano. Questi sono alcuni dei temi che potete trovare sul numero di dicembre di Advisor, news magazine della consulenza finanziaria.